Stasera torna la Champions e torna Conte in un palcoscenico mondiale, quindi prima di parlare dell'Arezzo io ovviamente darei un minimo di spazio a questa partita con il Glasgow che sicuramente non è un nemico imbattibile ma Conte deve andare là già aggredendo secondo me. Sì, stasera c'è la prima partita di andata di Ottavia a Glasgow col Celtic, una partita importante per la Juventus, anche se il Celtic non ha sicuramente le caratteristiche tecniche diciamo superiori all'Arezzo, però è all'Arezzo, sì, alla Juventus, l'Azus Freudiano, un giorno l'Arezzo che la Champions, speriamo, alla Juventus però sicuramente dal punto di vista dell'agonismo è una partita molto difficile per la Juventus che vede la vittoria importante con la Fiorentina, io l'ho anche vista questa partita, devo dire che la Juventus ha dato una dimostrazione di grossa superiorità, non sono d'accordo con i tifosi fiorentini che contestano Montella, buongiorno, salute, perché la Fiorentina ha provato a giocare i primi 20 minuti la partita da parte della Juventus, poteva anche segnare, poi ha fatto volete la Juventus e dopo chiaramente si è vista la differenza, però anche Montella sta cercando di inculcare la squadra viola alla mente da vincente, quindi è stata una bella partita, bella vittoria della Juventus, ritrovato un centroavanti importante e forse l'uomo fondamentale dell'attacco che è Matri e stasera vedremo cosa farà in Scozia. Speriamo porti tutte e due le scarpe stasera perché... Sì, ma se quando si toglie la scalpa farete può giocare anche scalzo. Mi ha colpito Maurizio un titolo sull'Arezzo, l'Arezzo che Dio Guardi ha dichiarato che per adesso non serve un direttore sportivo che ci penserà in un altro anno, e mi sono detto va bene che ormai il campionato è quello che è, le acquisti sono fatti, ma dovrà cominciare a lavorare ora su quello che può mancare o aggiungere un altro anno. Sì, l'intornamento è esatto, non penso che l'Arezzo non si stia guardando intorno per cercare un direttore sportivo, da quello che ho potuto capire in questi primi giorni, primi tempi di gestione del nuovo presidente, mi sembra che lui lavori in silenzio, quindi anche Dio Guardi sicuramente ha detto questo, ma qualcosa sotto bolle in pentola perché se la squadra vuole essere programmata, se chiaramente la società vuole programmare, la stagione successiva deve cominciare già da marzo-aprile, quindi sicuramente qualcosa sta tramando, diciamo però non voglio andare in pubblicità, questo penso sia... Ebbene, da un lato può essere un bene, campionati minori? Campionati minori, anzi una cosa prima, scusami, dell'Arezzo che non l'ho detta l'altra volta, in questo momento si sta svolgendo il torneo giovanile e l'Arezzo è presente con Matteo Idromela, classe 94, questo è una soddisfazione per il calcio aretino, è presente anche un altro 94 del Sansepolco, che è la punta Bracalenti, quindi due giocatori della provincia di Arezzo. Idromela, che non è la mela messa in idrocultura, sott'acqua. No, Idromela è il cognome. È di Arezzo? È di Arezzo, Matteo Idromela che ha segnato anche due... No, ma è di Arezzo lui, no. No, non penso sia di Arezzo, e ha segnato due gol col Sansepolco, e devo dire che questo ragazzo da quando è arrivato piccolo a centrocampo ha beneficiato sicuramente della vicinanza di questo giocatore con grande esperienza e sta venendo fuori molto bene. Per il calcio diventato artistico farei un punto velocissimo per la prima categoria, dicendo in promozione che il Pontassiave è sempre in vantaggio con tre punti sulla Bucinese e cinque punti sul Fogliara Castiglionese. In questo campionato la lotta ormai appare, abbiamo circoscritto a queste quattro squadre. Molto equilibrio invece in... c'è anche l'ericottero stamattina, lo abbiamo tutti. No, appena hanno saputo che c'erano, ci saranno riprendendo pensi da... Per gli stacchi dall'altro. E te col cappello come fanno, vedete? No, perché tirano anche un po' le cacca. Ah, ho capito. E per quanto riguarda la prima abbiamo invece un campionato molto equilibrato, in testa il Talla che domenica purtroppo ha battuto 7-0 il Tegoleto, il Tegoleto che in queste ultime partite ha dimostrato di avere la difesa piuttosto lacunosa, ha preso 18 gol in tre partite, ha preso 6-1 in casa con Lucignano, sono 5-2 la Torrita e 7-0 la Talla. Ma se ci avete, mi sembra forse anche un po' un calo di tensione, ora vediamo se il mister Bardelli riuscirà a recuperare la concentrazione. Secondi in classifica sono il Marciano e il Lucignano a un punto, terzo il Bibiana a 41 punti e poi abbiamo il Torrita a 39. È un campionato molto equilibrato. Il Torrino? Il Torrita, no, il Torrita a squadra di Siena. Ma ti ci vedo sempre fermo. Ma quando vado in udienza a Sansepolcro, forse vedi per quello, non per altri. Ma te come vai? Come fai a vedermi te? Eh perché io tengo d'occhio le puttane. Ci sei anche te allora. Io ci vado per il lavoro a Sansepolcro, tu che ci vai a fare al Torrita? Io faccio il magnace. Ah va bene, fammelo sapere però. No, l'abbigliamento hai ragione. Va bene, si può salutare? Salutiamo. Buongiorno, alla prossima. Dopo tutto questo appreso da Brandini.